Le innovazioni più importanti che abbiamo presentato qui alla fiera sono innanzitutto quello che vedete qui dietro di me, quindi la linea Morando Super Pet Food, una linea dedicata al canale specializzato, una linea completamente grain free con l'aggiunta di carne fresca per un'ottima appetibilità e con l'aggiunta appunto di superfood che sono questi prodotti che hanno delle caratteristiche nutrizionali molto importanti soprattutto nel campo degli antiossidanti. Questa è una linea appunto come vi dicevo dedicata al canale specializzato, altre novità che presentiamo per quanto riguarda invece delle linee cross channel che riguardano anche altri canali di vendita riguardano la nostra linea premium miglior cane e miglior gatto unico, abbiamo esteso visto il successo che stiamo avendo per questa linea monoproteica i formati sia per quanto riguarda il cane che quanto riguarda il gatto, per quanto riguarda il cane ci siamo focalizzati su una nicchia molto rilevante nel mercato dei cani che è quella dei toy dog e quindi i cani con peso al di sotto dei 5 kg. Abbiamo studiato una gamma di secco e di umido adatta a tutte le esigenze nutrizionali e di richieste di palatabilità appunto di queste razze di cani sotto i 5 kg. Per quanto riguarda il gatto, di nuovo visto il successo di tutte le nostre proposition di unico monoproteico abbiamo aggiunto delle linee al pesce, quindi al salmone che vanno a completare la nostra gamma.